Tanta buona per tutti ragazzi, io sono Gian e benvenuti in questo nuovo video qui su Dying Light 2 Oggi andremo a parlare della salute e della stamina Allora, sin dai primi momenti del gioco ci viene mostrato come l'unico modo per aumentare queste due statistiche Sia l'utilizzo di inibitori Che possiamo trovare in delle zone di quarantena o comunque zone con mostri di alto livello In questo caso ad esempio tra le attività nel diario troviamo diversi luoghi in cui potremmo trovare degli inibitori che sono segnalati sulla mappa Questi luoghi tuttavia sono abbastanza complicati e ovviamente più difficili da raggiungere Rispetto a delle semplici casse che si possono trovare in giro per la mappa Bisogna fare infatti molta attenzione poiché passando in alcune zone sentiremo un messaggio radio E inoltre in basso a sinistra comparirà un segnalatore che ci mostrerà la distanza in metri da una cassa del GRE contenente un inibitore Questo è molto utile perché è molto più semplice rispetto a dover affrontare delle zone di quarantena o degli eventi più complicati per ottenere gli inibitori Quindi in questo caso andando verso la direzione indicata vediamo che mancano sempre meno metri e in questo caso è qui giù Dovremmo probabilmente affrontare pochi mostri, pochi zombie e la cassa sarà facilmente ottenibile Questo è molto utile perché soprattutto nelle prime fasi di gioco la stamina, il vigore è molto importante Ed è... e partiamo con un livello molto basso che non ci permetterà di scalare gli edifici più alti dove solitamente si trovano anche oggetti più forti Quindi questo è probabilmente il metodo più semplice per aumentare il vigore e aumentare la salute Ricordiamo che ne servono tre Quindi in questo caso posso aumentare o il vigore o la salute con tre di questi inibitori Andiamo ad aumentare il vigore perché come abbiamo detto è una statistica molto importante che ci serve per permetterci di scalare gli edifici più alti Detto questo ragazzi, questo era un metodo semplice per ottenere inibitori su Dying Light 2 Spero che vi sia stato di aiuto Vi ricordo che potete lasciare dei commenti se avete dubbi o se avete domande su questo titolo Seguiteci anche su Twitch dove continueremo a fare contenuti per questo gioco E iscrivetevi su Youtube, lasciate un bel mi piace, seguite il magazine di Wanya.it E noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!